Fino ad ora abbiamo solo utilizzato il gioco di prestigio ma adesso insieme alla classe secondo E di cui qui abbiamo alcuni rappresentanti cominceremo a fare effettivamente sul serio e a fare scienza Dove ne vuoi si fa sul serio solo scienza Don't tell me what to do, and don't tell me what to say Please, when I go out with you, don't ruin me all this place I don't tell you what to say, I don't tell you what to do So just let me be myself, that's all I ask of you So just let me be myself, that's all I ask of you Grazie a tutti.